Allora, ecco qui il primo acquirente del nuovo iPad qui a Marcianisi, a Centro Campania. Che iPad hai preso? Ho preso un 64GB, 4G, bianco. Sei contento? Certo, venivo da un iPad 2, ho venduto l'iPad 2 giusto in tempo per prendere questo qua. Ora non vedo l'ora di andare a casa e di provarlo. Quanto tempo hai aspettato? Eh, pareggio, sono dalle 6 di pomeriggio, 14 ore di fila abbiamo fatto. In compagnia anche? Sì, altri ragazzi che man mano durante la nottata si sono aggiunti alla lancura. Buon saluto a tutti i nostri amici di Aispazio. Ciao amici di Aispazio, io vado a letto, buona serata. Ok, aspetta l'intro. Ciao.